Oroscopo del giorno, mercoledì 13 aprile 2022 Ariete Amore, sarà una nuova tranquilla giornata per voi. In questo mercoledì di metà mese infatti non avrete problemi. Purtroppo però non è detto nemmeno che ci saranno delle grosse novità in amore. Lavoro. Mercurio non sarà in buona posizione e qualche cosa potrebbe andare male sul posto di lavoro. Fate attenzione. Toro. Amore. Tutto molto sereno per la vostra storia d'amore e non andrà diversamente per i single che vorrebbero intraprendere delle nuove conoscenze proprio da oggi. Lavoro. Sul posto di lavoro stanno per arrivare delle novità. Voi continuate a rimpegnarvi fino in fondo e poi vedrete. Gemelli. Amore. Il pianeta dell'amore non sarà dalla vostra parte neanche in questo mercoledì. Con il vostro partner potrebbero esserci delle litigate tutt'altro che serene. I single potrebbero essere abbastanza agitati per oggi. Lavoro. Marte non sarà nel segno ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un bel miglioramento. Non siate troppo pessimisti. Cancro. Amore. Questa sarà una giornata veramente bellissima e tutta da vivere per chi ha una persona importante al suo fianco. Ci sarà romanticismo e passione nei rapporti personali quindi un mercoledì che vi piacerà davvero parecchio. Lavoro. La luna vi porterà tanta fortuna per oggi. Cercate di sfruttare le stelle di questa buona giornata del mese. Leone. Amore. Probabilmente non sarà una giornata fortunata come le precedenti eppure sarà comunque un mercoledì sereno per i rapporti. In questo momento sarete abbastanza presi dagli impegni professionali ma non dimenticatevi dell'amore e di chi amate. Lavoro. Mercurio presto ruoterà contro di voi. Dovrete sfruttare queste giornate prima che arrivi lo stress e la stanchezza. Vergine. Amore. Venere sarà ancora una volta in opposizione e dunque difficilmente potrete aspettarvi qualcosa di buono per oggi. Sarà un mercoledì piatto per alcuni rapporti anche abbastanza complicato e con qualche tensione. Lavoro. Mercurio potrebbe regalarvi qualche notizia piacevole e interessante per il vostro lavoro. Occhi aperti alle nuove opportunità. Bilancia. Amore. Giornata tranquilla per l'amore, per i rapporti conoscitivi ma anche per le relazioni sentimentali. Presto potrebbero arrivare anche delle emozioni più grandi ma bisognerà attendere i prossimi giorni. Lavoro. Mercurio sarà in buona posizione e sul posto di lavoro tutto dovrebbe procedere in maniera piuttosto serena per la giornata odierna. Scorpione. Amore. Venere in buona posizione vi lascerà delle belle emozioni in questa giornata di metà mese. In realtà andrà sempre meglio mentre il periodo migliore per l'amore e i sentimenti sarà quello del fine settimana. Lavoro. Purtroppo il pianeta Mercurio sarà ancora in opposizione e questo potrebbe continuare a portarvi problemi sul posto di lavoro. Sagittario. Amore. Per oggi le stelle non saranno proprio delle migliori e probabilmente potreste essere un po' sottotono. Non dovrete avere timore perché già dalle prossime ore potrete sperare in un recupero in amore e non solo. Lavoro. Energie basse per oggi. Potreste sentire abbastanza forte lo stress che piano piano potrebbe portare anche alla poca voglia di impegnarsi. Capricorno. Amore. Sarete abbastanza tranquilli in questo mercoledì di metà aprile. Tutto dovrebbe filare liscio con il partner. Anche per i cuori liberi dovrebbe essere una giornata serena. Lavoro. Mercurio sarà in buona posizione e nei prossimi giorni inizierete ad avere anche il favore di Marte. Ottime notizie in arrivo. Acquario. Amore. Dopo dei giorni piuttosto pesanti e particolari da questa giornata finalmente potrebbe tornare il sereno. In effetti da oggi potrebbero esserci i primi miglioramenti anche per l'amore e le coppie. Lavoro. Mercurio purtroppo non tornerà nemmeno per questo mercoledì in buona posizione. Abbiate pazienza e attenzione a come vi porrete con i collaboratori. Pesci. Amore. Bella giornata per i sentimenti di chi è impegnato sentimentalmente ma non solo. I single infatti potrebbero avere una possibilità importante per fare un nuovo incontro. Stelle promettenti per oggi. Lavoro. Anche sul posto di lavoro tutto dovrebbe andare per il meglio in questo mercoledì del mese. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti.